Qual buon vento, Giacomino, ma dov'eri finito, dov'eri finito? Sono tornato, Svelto E dove eri andato? E' solo stato un weekend di aggiornamento per profetti, te l'ho detto mille volte Profetta vuol dire anche progresso Non è che ti posso lasciare là senza mezzi per baccagliare che già fai fatica, mi devo aggiornare Già sono una versione beta dello schifo Bravo E ho scoperto una roba Teniti alla sedia Il like è superato Che superato? Certo che il like è superato, Svelto, perché il like aveva un grosso difetto Che era sgamabile Tipo magari a una piaci No, però lei è fidanzata e non ti vuole mettere il like perché sennò il tipo magari si incazza E non te lo mette il like Allora la tecnologia, Zuckerberg ci viene in soccorso Perché sai che a lui piace faresti i trallazzi dallo scone Gioca con i dadi Bravo, bravo E com'è che ci viene incontro? Con Instagram Story Tutti hanno detto Eh, l'ha fatto Instagram Story per Snapchat Ma va, ma quale Snapchat? Lui, lui voleva darci un nuovo metodo di approccio Perché Instagram Story non è beccabile, capito? Perché solo tu puoi vedere il visualizzato È vero Certo Però c'è un limite, anche qua c'è un limite Ma io comunque ho fatto l'aggiornamento dell'aggiornamento E ho subito capito, ho creato la soluzione Hai già fatto il master Bravo Quale profeta Cosa succede? Cosa succede? Che tu devi mettere due storie di Instagram in rapida successione Perché in rapida successione, Smilzo? Perché magari lei ha switchato sul tipo prima Gli capiti tu e ti toglie e ti schippa Quindi la prima non conta niente Devi metterne due di fila Perché se lei ha visualizzato anche la seconda E' più sicuro del live Perché è visualizzato su Instagram Story, Smilzo? È tattico, capisci? È tattico Tattico, è truffale Guarda, dai Facciamo la prova Lei? Sì Guardati, guardati lei Prendiamo ad esempio, no? Ok, andiamo a vedere Sulla seconda storia Sulla prima c'è visualizzata Guarda la seconda C'è anche qua Tac No, ma questa è quella che mi piace Ma quella che ci provano già dal liceo, bro Bro, non posso perdere tempo No, ma Smilzo, Smilzo Smilzo Elga, Elga, sono Smilzo Quello del liceo Scendi un attimo che devo parlarti Ciao Smilzo, ma che cazzo ci fai qui? Non ci vediamo a dieci anni Elga, io sono qua Io ho visto che tu sei avanti Sei luminare Cioè, tu già non usi più il like Per cercare di darmi dei segnali Ho visto che tu visualizzi le mie storie su Instagram Capito? Elga, io sono qua per dire Che tu sei la donna della mia vita Tu sei l'attacchiprina per noi con la ferra Aspetta Ma io non ti seguo neanche su Instagram Come non mi segui su Instagram? Smilzo Smilzo, sono due ore che cerco di dirti Il cellulare è il mio Hai usato il mio cellulare Stavi guardando le mie storie di Instagram Lei segue me Cioè, quindi, quello è il tuo cellulare? Sì E quindi tu visualizzi le sue storie? Eh Sì, ma Giacomino Ma lasciamene una Lasciamene una Almeno in un video Lasciamene una Qual è il profeta? Proligamo Proligamo Poligamo Smi Si dice poligamo Allora Ciao Tutto bene? Sì, sì, tutto bene Sei laureata alla fine? Ah sì, 110 Grande E tu? No Oh 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 Chiudi la porta Ma annesci please Chiudi la porta Rest in peace Forever alone Forever alone Chiudi la porta